0-0 all'Olimpico. Non è stata l'Inter a perdere un punto, ma la neo promossa Lazio a fallire una grossa occasione per conquistare l'intera posta. Una Lazio ben impostata in difesa intorno a un impeccabile Wilson, ben disposta a centrocampo, estremamente incisiva in prima linea con un chinaglia che, stretto tra due avversari, ha aperto varchi per i suoi compagni. Re Cecconi, reduce da un precampionato non privo di critiche, ha messo finalmente in mostra il suo effettivo valore, ma non è stato fortunato nelle conclusioni anche perché Vieri vi si è opposto con grande bravura. Le migliori occasioni la Lazio le ha avute nella ripresa con chinaglia, sempre in veste di suggeritore. Nanni, Wilson, Manzervisi e Re Cecconi hanno avuto sul piedi palloni migliori per sbloccare il risultato, ma i loro tentativi sono stati vani. Proprio allo scadere ci si è provato lo stesso chinaglia con un diagonale che Vieri ha bloccato con sicurezza.